Sono aperitivi, è un po' di cuore, un dite di chorizo, una merenguada e una chocolate con chorizo. Aqui hai canadò in Argentina e come? Questa è la canadà? Diciamo, qual è una canadà? Attenimento. 1927. Tampi la copia di dopo, poi si può vedere una bella Tango. mahalo no? Quattro expensive to watch tango in this coffee shop but really the most famous in Argentina